Per dire chi è bisogna aprire un libro, perché l'età che ho non sono più un ragazzino, quindi ci vorrebbe davvero un libro. Dal punto di vista artistico sono uno che ha una passione incredibile per la pittura. L'ho praticata da ragazzino, sempre invogliato, stimolato da mia sorella, dai familiari che mi hanno sempre dato sostegno. Cosa ho fatto? Ho iniziato studiando i grandi pittori, perché io sono un'autodidata, da lì sono partito, li ho anche copiati. Poi ho fatto una scelta, che è quella di rappresentare la mia terra in tutte le sue sfaccettature. I temi del lavoro, i temi della tradizione, i temi della cultura della nostra isola. Queste sono le cose che faccio. Lo faccio cercando di rappresentarle al meglio e naturalmente se queste cose poi vengono percepite da chi osserva è uno stimolo, una voglia a continuare su questo filone. Il filone di voler rappresentare la nostra isola, che credo nel panorama mondiale ha una specificità incredibile, credo che sia uno dei compiti che ci dobbiamo assumere come sardi, come amanti della nostra identità. Queste sono cose importanti che io cerco di fare e continuerò a farle. Credo che sia anche un veicolo che dà un segnale importante e preciso di quella che è la nostra bella terra, la nostra isola, la Sardegna.